Gentili telespettatori, buona giornata. Salvini e il suo avvocato Buongiorno porteranno a processo mezzo governo. Dice così l'avvocato Buongiorno, chiameremo a testimoniare anche l'ex presidente Conte, dichiara Giulio Buongiorno dopo la notizia del rinvio a giudizio nei confronti di Salvini, l'ex ministro Danilo Toninelli e il ministro Luigi Di Maio. E' inutile negare che c'è una valutazione politica e come mandare a giudizio una linea politica perché la scelta di Salvini sono le scelte di un governo in materia di flussi migratori. Un passaggio, quello dell'avvocato difensore del segretario leghista, in cui sono stati messi in risalto due elementi. Da un lato l'atto firmato dall'allora ministro dell'interno nei confronti di Open Arms e da contemplare all'interno di una linea politica attuata in quel contesto storico. E dall'altro lato la scelta è stata dettata da una comune linea governativa. Per questo quindi Giulia Buongiorno ha intenzione di chiamare a testimoniare esponenti chiave dell'esecutivo Conte 1. Toninelli, in qualità di ministro dei trasporti, ha avuto un ruolo importante secondo la difesa di Salvini nel concordare quegli atti. Stesso discorso vale per la 30 il ministro della difesa che ha firmato anche lei, il documento di stop. Poi c'è anche il ministro degli esteri Luigi Di Maio, che nel primo governo Conte era ministro dello sviluppo economico ma anche vicepresidente del Consiglio. Ovviamente non può sfuggire in quest'ottica il ruolo dello stesso ex capo del governo, Giuseppe Conte. L'obiettivo dell'avvocato Buongiorno è mostrare un lavoro collegiale all'interno del governo sul fronte dell'immigrazione. Come del resto è stato già dimostrato nell'altro tentato processo in Sicilia, quello Gregoretti, una vicenda discussa nel tribunale di Catania per la quale la locale procura ha chiesto il non luogo a procedere, cioè il proscioglimento da tutte le accuse. In fase preliminare il giudice per le udienze preliminari di Catania, Annunzio Sarpietro, ha ascoltato in diverse udienze proprio i principali esponenti del governo Conte I, quindi ha sentito Toninelli, Di Maio, Conte e anche la Lamorgese. Dalle deposizioni ha dichiarato lo stesso giudice. Dopo aver ascoltato Giuseppe Conte a gennaio è emerso un lavoro collegiale. Con una testimonianza da parte di vecchi e attuali ministri, la difesa di Salvini mira a dimostrare come le scelte di Salvini siano state politiche e condivise con gli altri esponenti dell'esecutivo. Il processo Open Arms dunque potrebbe vedere l'ingresso sulla scena di personaggi di spicco della passata campagna gialloverde. All'interno dell'aula bunker del carcere Unciardone di Palermo dunque potrebbero mettere piede tra gli altri, sia l'ex presidente del Consiglio che l'attuale titolare della Farnesina. Si manda a processo Matteo Salvini per sequestro di persona per aver rallentato lo sbarco per sei giorni. Mentre nel Conte II la Lamorgese ha rallentato alcuni sbarchi per dieci-dodici giorni, cioè il doppio dei giorni di quelli che ha realizzato Matteo Salvini. Perché? Perché c'erano le elezioni regionali, non vi ricordate? A gennaio poi c'erano in un altro mese altre elezioni regionali. In concomitanza, nei giorni poco prima e poco dopo le elezioni regionali, gli sbarchi si sono fermati, non sono state autorizzate le ONG a sbarcare clandestini. Perché? Perché far sbarcare clandestini durante le elezioni regionali avrebbe comportato elettoralmente un possibile problema per il centro-sinistra che avrebbe perso voti. E così. I giornali non ne dicevano assolutamente nulla, tranne alcuni di centro-destra, venivano fermati gli sbarchi per oltre dieci giorni in alcuni casi. E come? Salvini è questo cattivo sequestratore con la barba che fa paura, mentre la Lamorgese è lì che fa il ministro. E nessuna procura gli è mai passato per il cervelletto di indagare la Lamorgese. Come mai? Perché due pesi due misure? Perché una morale diversa? Ma la giustizia non è uguale per tutti? Non è uguale per tutti. La Lamorgese è colpevole di qualcosa? Secondo me no. E tantomeno Salvini. Però perché a Salvini viene aperto un processo? Eh beh, ormai questo lo abbiamo capito assolutamente tutti. Con molta probabilità anche questo processo non andrà a finire da nessuna parte, quello riguardo al sequestro di persona. Secondo me quello che si vuole fare è proprio quello di, con Matteo Salvini, condannarlo per omissione d'atti d'ufficio. Due o tre anni con la condizionale, decade da senatore, non potrà più fare il presidente del Consiglio, il ministro, il viceministro, non potrà più mettere piede in Parlamento. E così farebbe la fine di Silvio Berlusconi, fuori dalle scatole, fuori dalla politica. Possono fare i capi politici quanto vogliono, ma non possono più fare nulla, nessun governo. E dopo Berlusconi, Salvini, che dite? Molti di voi diranno non è possibile che succeda questo in Italia. E succede. Succede come? È successo, succede e in futuro succederà. Ma qualcuno non può porre freno a questo? E Salvini dice poi cambieremo il sistema giudiziario, ma più lo dice e più questi cercano di fermare Salvini che vuole cambiare il sistema giudiziario. Forse dire di voler cambiare il sistema giudiziario non è proprio il massimo, sapendo come funziona in Italia. Non era il caso di dirlo. Perché sennò queste cose si accelerano in modo che Salvini venga fatto fuori dalla politica prima che possa cambiare alcune cose. Tutto torna a me perfettamente, non so a voi. A meno che non abbiate offuscata la mente dall'ideologia di sinistra, e Salvini è cattivo a prescindere, lui è cattivo e gli altri sono tutti buoni, se non avete questa nebbia davanti agli occhi, credo che possiate vedere esattamente le cose come le vedo io. Grazie a tutti quanti e buon proseguimento di giornata. Grazie a tutti quanti, ci vediamo tra una ventina di minuti per un altro video qui sul canale. Arrivederci a tutti.